È un Natale da vivere in serenità e allegria. È un Natale italiano. Paolo Miotto, stile italiano. Fino a Natale tutta la moda uomo firmata Paolo Miotto è scontata fino al 30% per vivere il Natale con eleganza e stile. Lo stile italiano. La moda uomo dinamica e inconfondibile, soprattutto a Natale, con gli sconti fino al 30%. Paolo Miotto, stile italiano.